Gli altri 5 al Senato sarebbero pronti ad uscire ma lo smottamento per la prima volta investe anche la Camera Tacconi che parla di macchina del fango contro di lui è fuori dal gruppo di Montecitorio insieme a Ivan Catalano, altri decideranno nel weekend ma la linea ufficiale dettata ieri da Grillo e ripetuta dai fedelissimi è questa Chi vorrà andare via il movimento è assolutamente libero, la porta è aperta, chi vorrà rimanere lavorerà ancora di più Io sono convinto che anzi il venir meno di certe tensioni interne permetterà al movimento di ripartire con maggior slancio Ma è tutto da vedere, tranne Campanella gli altri senatori vorrebbero presentare le dimissioni che difficilmente il Senato accetterà Quindi i numeri per formare un altro gruppo ci sarebbero e molti ci sperano